Arriva un nuovo prestigioso riconoscimento per l'ospedale pediatrico Mayer di Firenze. Grazie a un percorso durato tre anni, dopo un intenso procedimento di verifica, ha ottenuto l'accreditamento internazionale dalla Joint Commission International come Academic Medical Center Hospital. Un riconoscimento che certifica lo standard di eccellenza e che lo proietta nel panorama delle realtà pediatriche più avanzate a livello nazionale e internazionale per il livello delle cure e della sicurezza garantiti ai piccoli pazienti. Ad oggi l'accreditamento JCI è lo strumento più efficace ed esauriente al mondo per migliorare la sicurezza e la qualità in sanità. Ma che cos'è la JCI? È un'organizzazione non governativa che da oltre 75 anni è dedita al miglioramento della qualità e della sicurezza nei servizi sanitari. In pratica è l'ente di accreditamento in sanità più grande e con maggiore esperienza al mondo. In Italia sono soltanto 20 le realtà che hanno raggiunto questo obiettivo. Tra queste l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, l'Humanitas, lo IEO e il Campus Biomedico. Voglio esprimere una grande gratitudine verso tutti i professionisti del Maier che hanno lavorato duramente ciascuno nel suo ruolo per ottenere questo importantissimo risultato che riconosce il Maier come organizzazione più sicura per i piccoli pazienti e per gli operatori. Sono le parole del direttore generale del pediatrico Alberto Zanobini.